Dramma della solitudine a San Martino, Valle Caudina, dove un anziano è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione. L'uomo di origini napoletane da tempo si era trasferito nel centro caudino, dove viveva da solo. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini che hanno avvertito un pessimo odore provenire dalla casa dell'uomo. Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia municipale. Dopo aver bussato più volte alla porta di casa senza ricevere alcuna risposta, i vigili urbani hanno chiesto l'intervento dei pompieri. Quando i soccorritori sono riusciti ad entrare in casa del settantennio hanno fatto la macabra scoperta. L'uomo era disteso sul pavimento, le condizioni del cadavere hanno rivelato che l'anziano era morto già da tempo. Probabilmente l'uomo è stato colto da un improvviso malore, tesi avvalorata dall'assenza di segni di effrazione o colluttazione all'interno dell'appartamento, dove era tutto in ordine. Comunque l'accertamento per stabilire le cause del decesso sarà eseguito dal medico legale. come disposto dalla procura della Repubblica di Avellino. Al momento vi è un'unica amara certezza. Il settantenne, che a San Martino Valle Caudina non aveva parenti e in paese conosceva pochissime persone, è morto da solo e cosa ancora più grave della sua assenza non si era accorto nessuno.